Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto le curiosità di questa puntata. Nel 1997 ci lasciò la donna più longeva della storia. Jean Calman morì a 122 anni, è suo il primato della donna più anziana di sempre. Sopravvissuta tutta la sua famiglia, la simpatica supernonna che fino a 100 anni è andata in bicicletta rappresenta un caso straordinario di individuo ultracentenario per la medicina mondiale. Secondo i medici che l'hanno seguita fino agli ultimi istanti di vita, l'origine della sua longevità è da ricercare in fattori ereditari. La gioia è assai contagiosa, cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate. La curiosità del territorio di oggi ci porta ad Adria, in provincia di Rovigo. È il secondo comune più popolato della provincia. Le origini di Adria, le cui prime testimonianze scritte risalgono al VI secolo a.C., si intrecciano addirittura con la mitologia greca. Questa cultura infatti ci ha tramandato dei tratti e dei dettagli unici sul territorio polesano, ritraendo in particolare il grande fiume Il Po, allora conosciuto come Eridano. Dal Notes di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci!